Allora, buongiorno, bentrovati. Questa volta la lezione sarà sulla videosorveglianza come strumento di attuazione della sicurezza urbana. È un argomento di importante attualità ed è fondamentale che tutti acquisiamo delle competenze rispetto all'argomento. Gli obiettivi saranno quelli intanto di definire il quadro normativo, individuare quali sono le principali criticità e la conoscenza dei principali ambiti applicativi. Chiaramente alla fine spero di darvi una competenza o la conoscenza di quelli che sono i principali ambiti di applicazione. Come si struttura la lezione? La lezione si struttura intanto nella definizione nel regime giuridico della videosorveglianza. Vedremo quali sono i principi che sono alla base di questo sistema. Le misure di sicurezza, il trattamento dei dati e l'autorità garante per la privacy, le regole per la tutela della sicurezza urbana, le linee generali per la politica della sicurezza integrata e la normativa e l'ambito di applicazione rispetto ai patti e rispetto alla sicurezza urbana ed integrata. Allora, la videosorveglianza. L'articolo 134 del decreto legislativo 196 del 2003, cosiddetto il testo unico sulla privacy che è attualmente stato traspuso in un decreto legislativo del 2018, definisce la videosorveglianza come un sistema che regola il trattamento dei dati personali effettuati mediante strumenti elettronici e di rilevamento delle immagini. Quindi la videosorveglianza opera sul concreto realizzarsi di un evento senza forse lo scopo di indagare i motivi che lo hanno generato. Quindi abbiamo la sorveglianza come osservazione e quindi è una prevenzione, una situazione, è definita così da studiosi delle scienze sociologiche ed è praticamente si basa sulla concreta condizione dei reati. Poi c'è la sorveglianza come osservazione ma soprattutto come prevenzione in senso stretto ed è il contrasto che praticamente su fattori che il contrasto ma soprattutto lo studio dei fattori che generano i fenomeni criminali. Quindi abbiamo detto che qual è lo scopo della videosorveglianza, semplicemente l'osservazione e quindi in questo caso la commissione reale, la possibilità di indagare e quindi di verificare i reati ma soprattutto anche lo studio. Il sistema è composto da tre parti, l'acquisizione, la visualizzazione e la trasmissione. L'acquisizione delle immagini viene effettuata da telecamere di tipo di veste che possono essere esempio brandeggianti, a infrarossi, invisibili, mobili eccetera, la visualizzazione e la memorizzazione del dato e la trasmissione delle immagini. Regime giuridico è appunto sotto il profilo operativo è quello di ausilio agli organi che sono deputati al controllo del territorio e per questo motivo si caratterizza dal controllo a distanza, quindi di fatto è un controllo a distanza del territorio, quindi abbiamo detto questo sistema. Le finalità sono quelle di proteggere gli individui ma soprattutto proteggere anche gli interessi pubblici sia come protezione dell'integrità fisica, della custodia della proprietà e soprattutto anche in casi particolari il reperimento di prove. Anche è una funzione deterrente perché la presenza delle telecamere fa dissuare un po' a comportamento illecito e criminale, seminoso, possiamo dire. La sorveglianza può essere statica attraverso la videosorveglianza tradizionale ma può essere anche dinamica e preventiva attraverso sistemi intelligenti. Quindi la Cassazione, io vi ho inserito questa sentenza, ha stabilito che l'installazione di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro non necessita di alcuna audiovisivi, autorizzazione e le relative riprese sono perfettamente utilizzate nel processo. Qua però parliamo di procedimenti penali. Non ci dimentichiamo una cosa fondamentale che è l'ultima nota del garante della privacy ha sottolineato che nei luoghi di lavoro non c'è bisogno semplicemente di un'informativa ai dipendenti ma è oggetto di concertazione con i sindacati. Oltre questo la visorveglianza può essere anche installata anche per uso privato e però in questo caso è sottoposta a regole importanti per la tutela della privacy e delle libertà fondamentali delle persone. I principi che sono sottesi alla privacy, chiedo scusa alla visorveglianza, sono il principio di lecità, il principio di necessità, proporzionalità e finalità. Vediamo che cos'è il principio di lecità. Afferma che il trattamento di dati deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla norma e soprattutto in materia di protezione dei dati attraverso chiaramente quelli che sono gli enti pubblici. Il principio invece di lecità lo possiamo risumere dall'articolo 615 bis del codice penale che punisce l'indebito acquisizione delle immagini mediante l'uso di strumenti di ripresa adesiva all'interno delle proprie abitazioni e quindi anche ovviamente la conseguenza contraria che sul suolo pubblico e quindi aperta al pubblico è possibile, come conseguenza è possibile poi ritrarle, prendere le immagini. Chiunque, questo è quello che recita l'articolo 615 bis del codice penale, chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa adesiva e leggete bene, si propone indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgendosi in luogo indicati di quell'articolo, quindi luogo pubblico e poi tutto quanto stabilito anche come sanzione. Il principio di necessità invece afferma che il trattamento dei dati non deve mai superare il limite necessario per il raggiungimento dello scopo che viene prefisso, quindi lo scopo deve essere indicato in precedenza. Il principio di proporzionalità afferma che la videosorveglianza deve costituire estrema razio, la videosorveglianza quindi deve essere proporzionata, non potranno quindi essere utilizzati sistemi di videosorveglianza se l'obiettivo può essere raggiunto con una modalità diversa. Il principio di finalità afferma che lo scopo del trattamento deve essere determinato, esplicitato e legittimo. Bene, allora i quattro principi che abbiamo appena indicato, elencato, sono alla base del sistema di videosorveglianza e consentono se essi sono proporzionati, sono tutti realizzati, anche evitare l'autorizzazione preventiva del garante della privacy. Quindi se il sistema di videosorveglianza è posto per le finalità in principi e quindi si focalizza e si conforma sui quattro principi, si può evitare l'autorizzazione preventiva. Invece l'autorizzazione del garante della privacy è importantissima ed è preventiva, bisogna richiederla quando c'è la raccolta delle immagini e quando queste immagini sono raccolte attraverso l'incluso dei dati personali come ad esempio l'incluso di immagini e le impronte digitali. La videosorveglianza quindi abbiamo detto in supporto efficace per le forze di polizia ha e ha un carattere sia di tipo amministrativo che però anche di tipo penale che vedremo anche successivamente. Quali sono le misure minime? I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, bisogna ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita accidentale, per accedere a sistema bisogna essere autorizzati e tutto il trattamento del dato bisogna che sia conforme alle finalità di raccolta. Queste sono le misure minime e secondo queste misure minime il garante stabilisce date le indicazioni generali di base e dice in presenza di effettive competenze specifiche attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità dell'immagine. Quindi praticamente il garante ci dice che ogni soggetto intanto deve essere autorizzato, deve essere designato al trattamento dei dati e ognuno deve avere delle credenzialità per essere autenticato. È chiaro che l'autenticazione comporta anche delle responsabilità, quindi si può disumere chi fosse in quel caso a manipolare e a verificare le immagini. Ancora il garante ci dice che la registrazione e la conservazione delle immagini devono essere limitate, i soggetti abilitati alla visione devono chiaramente essere ben identificati, l'abbiamo detto prima, ma soprattutto le immagini che non sono necessarie devono essere cancellate. Il periodo di conservazione quindi chiaramente forma un termine, un lasso di tempo determinato e quindi le immagini poi a un certo punto vengono cancellate o sovrascritte. Abbiamo detto che anche per accedere ai locali dove si trovano le postazioni di controllo è necessario l'autenticazione e quindi è fondamentale anche fare delle cautele, utilizzare delle cautele proprio per garantire il massimo della privacy per quanto riguarda le immagini. Il divieto di accesso alle persone è questo e quindi sia il divieto di accesso per le persone non autorizzate, la cancellazione dei dati alla stadenza ma anche altri dati che non sono interessati devono necessariamente essere cancellati e non devono essere messi a disposizione di chi che sia. Vediamo chi è il garante per la protezione dei dati personali. È un'autorità indipendente, è un organo collegiale composto da quattro persone, due componenti sono eletti dal Senato e due dalla Camera dei Deputati. I membri sono scelti tra persone che assicurano l'indipendenza, sono esperti anche di informatica e sono qualificati. I quattro componenti a loro volta eleggono al loro interno il Presidente e il Vicepresidente. Quindi abbiamo visto chi è questo garante per la privacy. L'autorità garante per la privacy che cosa fa? Ridige pareri, controlla la conformità del trattamento dei dati, segnala ai responsabili del trattamento le modifiche da mettere in atto, decide sui ricorsi eventualmente, vi garantisco che le sanzioni per la violazione della privacy che vengono emesse a carico dei denti sono molto salate. Vediamo che cosa è il sistema, come può essere anche e se può essere utilizzato il sistema da privati. Un recente provvedimento del 2017, proprio del garante della privacy, ha ammesso la possibilità di installare i sistemi di disorveglianza senza richiedere l'autorizzazione della polizia o del proprio condominio. Quindi di fatto il garante con questo parere è un corte nel poter fare installare a privati un sistema di telecamere. L'unica situazione che potrebbe essere il limite è quello che l'impianto, anche senza l'autorizzazione, non può inquadrare quello che chiaramente è la sede pubblica. Intanto deve avere una collocazione, una locazione ben precisa e inquadrare semplicemente quello che è il minimo indispensabile. Oltre quello non può andare, ma soprattutto non può inquadrare la vita privata altrui e qui incorrerebbe nell'articolo 615 bis del codice penale. Abbiamo detto interferenza illicita nella vita privata altrui. Qualora poi dovesse conservare le immagini, le immagini che a volte possono essere utili nelle indagini di polizia giudiziaria, queste però non possono essere diffuse a terzi. L'uso della videoripresa nel corso di indagini è disciplinata dall'articolo 234 del codice di procedura penale, quindi è utilizzata in indagini di polizia giudizio. Questo è un vero e proprio documento. Quindi il frame, vogliamo dire un pezzo di videosorveglianza, un pezzo di immagine anche estratta dalla videosorveglianza, può essere tranquillamente utilizzata in indagini. che occorre che però soprattutto le immagini non si interferiscano con la vita privata, ma l'abbiamo già detto prima, in caso qualora l'immagine si riferisce alla vita privata altrui e questa non è una prova che si è costituita in modo lecito e quindi c'è anche la lesione dell'articolo 14 della Costituzione e quindi la migliorabilità dei videosorveglianza. Cosa fa la polizia giudiziaria? La polizia giudiziaria generalmente quel sistema di videosorveglianza riesce chiaramente a identificare anche reati importanti e molto allarmanti come lo spaccio di stupefacenti. In questo caso le norme rispetto a quello che ci siamo detti sulla riservatezza, l'autorità della privacy fa una deroga a quella che è il principio della riservatezza perché è proprio per l'offensività del reato. In questo caso c'è il bilanciamento tra la tutela della riservatezza a favore della sicurezza pubblica ma pertanto qualora c'è un'indagine in corso la riservatezza lascia il posto all'indagine in corso. Vediamo un po' invece, passiamo a quello che... Fino adesso abbiamo parlato un po' del sistema della videosorveglianza, di quali sono i principi cardine che muovono tutto il sistema, quali sono le efficaci eccetera, ma quello che invece interessa in modo particolare adesso è come questa videosorveglianza può essere impiegata nella tutela della sicurezza urbana. Intanto possiamo dire che la videosorveglianza è un fine, è finalizzata la tutela della... è lo scopo, lo strumento grazie a quale... uno strumento grazie a quale viene attuata anche la tutela della sicurezza urbana. Il termine per la conservazione, abbiamo detto, sono sette giorni e quando c'è questa finalità esse possono anche superare il concetto della privacy. In questo caso quindi il tempo si allunga solo e unicamente se c'è la notifica del garante della privacy. Vi sono dei sistemi intelligenti, per esempio, come ho detto già prima, per i sistemi intelligenti è necessario avere la preliminare e obbligatorio trasmettere tutto il sistema e il progetto di videosorveglianza al garante della privacy. e in questo modo il garante della privacy si pronuncia sull'eventuale possibilità anche di verifica di anomalie e quanto serve. Nei sistemi che vanno quindi oltre quella che è la normale attività di videosorveglianza abbiamo detto che c'è soprattutto quando si invade la sfera dell'interessato, quindi un utilizzo diverso, allora in questo caso è necessario la verifica preliminare del garante della privacy. Quando si installa un sistema di impianto di videosorveglianza e quindi soprattutto per il fine, abbiamo detto, della sicurezza urbana, non è necessario ottenere il consenso da i soggetti che vengono ripressi, soprattutto perché il sistema è a garanzia dell'interesse pubblico. Occorre però preventivamente mettere un cartello informativo che si chiama proprio la cartellomistica informativa che indica la zona controllata dalle telecamere e questo soddisfa quello che è il consenso preventivo dei soggetti ripressi. Le immagini quindi sono chiaramente, se sono trattate dall'autorità di polizia, è bene che nel cartello indicativo è indicato e soprattutto deve essere indicato il responsabile del trattamento dei dati e quindi bisogna informare i cittadini di questa evidenza. Il diritto all'immagine, protezione del diritto d'autore, dei diritti concessi e di quello che è concesso al proprio esercizio e da qui si evince che la riproduzione, l'uso dell'immagine è lecita solamente se c'è il consenso. Però abbiamo detto che l'acquisizione, se viene effettuata in un luogo pubblico o aperta al pubblico passaggio, abbiamo soddisfatto quella che è l'esigenza della informativa e quindi della tutela del diritto all'immagine. Il decreto di sicurezza, l'articolo 6,78 del decreto di sicurezza, che è stato approvato nel 2009, quindi uno dei primi decretti di sicurezza, ha praticamente denominato, ha fatto in modo che approvassero un piano straordinario per il controllo sul territorio e da lì poi sono ammesse, quindi sono state finanziate attività proprio della videosorveglianza. Questo piano straordinario consentiva ai comuni di fare uso dei sistemi di videosorveglianza al fine di prevenire i reati del controllo e grazie a questo anche di controllare il territorio. La finalità tra le finalità più importanti chiaramente erano quelle di competenza direttamente dell'ordine pubblico e quindi quelli che non riuscivano proprio, poiché possiamo dire che i mezzi e le risorse delle polizie locali e statali erano tali, quindi esigue, allora fu barato questo piano straordinario di controllo. Anche per i comuni quindi è stato possibile adottare il sistema di videosorveglianza e lo scopo era proprio, è stato proprio quello alla base di tutto della soveglianza e del controllo del territorio, ma in questo caso anche la videosorveglianza cittadina può essere, avere uno scopo proprio della tutela del territorio, tutela ambientale, quindi è ammesso, sono ammessibili anche le violazioni in materia di infiuti. L'accertamento del codice della strada, poi altro problema importante, si poneva rispetto alla videosorveglianza, vi faccio esempio uno per tutti dei ZPL. Le telecamere installate per l'accertamento delle violazioni devono però rispettare la tutela dei dati personali e ancora di più, quindi tutti i cartelli informativi che vengono messi nei barchi delle ZPL per fare l'esempio devono essere completi e il circolare del ministero degli interni del 2006 prevede proprio che questi sistemi sono sistemi intelligenti che immagazzinano le immagini solo però nel caso delle infazioni al codice della strada, quindi tutte le targhe che passano per le zone ZPL che siano chiaramente autorizzate e non possono essere memorizzate. Le immagini sono chiaramente utilizzate al finito dell'accertamento del codice della strada. Al termine chiaramente del procedimento si ha la contestazione. Le immagini dopo che si è svolto tutto quello che è il procedimento e quel provvedimento sanzionatore, le immagini devono essere cancellate. In questo caso c'è la tutela della privacy. Esse quindi per motivi di privacy non possono tra l'altro essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo insieme al verbale, ma gli interessati devono avere la possibilità di accedere e quindi di visionare la propria immagine, quindi con sistemi chiaramente che siano sistemi forniti direttamente dal comando di polizia locale. Quindi con una password si accede nel sistema che si può verificare tranquillamente l'immagine. Va precisato però che la registrazione continua e quindi il monitoraggio del traffico va conservato in forma di dati anonimi. Quindi parlavamo di uno degli scopi della videosorveglianza, cioè lo scopo dello studio dei flussi di traffico. Quindi quando, ad esempio, ci sono delle telecamere sull'autostrada, esse sono apposte ai fini di studi e di ricerche sul traffico, queste deve conservare, queste telecamere, queste immagini vanno conservate ma in maniera anonima. Ancora, i comuni, qualora abbiamo già detto prima, qualora vengono installate dei sistemi di videosorveglianza sulla base del controllo per finalità di sicurezza urbana, allora in questo caso bisogna non fare riferimento alla direttiva del codice europeo della privacy, con la direttiva, diciamo, entrato in Italia con regolamento europeo nel 2016, ma alla direttiva della polizia, del capo della polizia. In questo caso si chiarisce anche che coloro i quali hanno un sistema di videosorveglianza all'interno dei quali sorvegliano i propri condomini, i propri luoghi, è necessario, come abbiamo detto prima, sicuramente è possibile secondo il parere del garante della privacy, ma è necessario che questi vadano ad essere autorizzati, in questo caso non autorizzati, ma bisogna avere sottoscritto un accordo con l'amministrazione comunale e con questo accordo si disciplina anche l'utilizzo. La direttiva sulla privacy, in questo caso, che cosa fa? Stabilisce il trattamento dei dati e stabilisce che tale trattamento è un trattamento che ha come fini la prevenzione, l'investigazione e la repressione dei reati, proprio la norma sulla privacy. Tale direttiva è stata ricevita in Italia ed è stata ricevita nel 2018. Qui abbiamo chiaramente un regolamento che è stato sparato in Italia con decreto legislativo 18 maggio il numero 51, il cosiddetto codice della privacy. Il codice della privacy si applica chiaramente al trattamento dei dati personali e che chiaramente tale trattamento possiamo dire che si rivolge ai contenuti di ogni attività che può in un certo senso leggere la privacy dei soggetti interessati. Qui la norma è molto nel dettaglio. È vero che con questa norma il 196 del 2003 viene praticamente trascusa in questa norma, ma viene anche modificata. Il 196, il regolamento privacy vecchio, quindi la legge sulla privacy, ormai non esiste più. Ma con il codice della privacy vediamo che ci sono delle indicazioni molto molto più puntuali, soprattutto per quelli che sono i responsabili. Quindi il titolari del trattamento. Il titolare del trattamento è una nuova figura e soprattutto è molto più completa, ma è con il quale è responsabile anche di tutti quelli che sono le successive poi categorie che sono designate al trattamento dei dati, che possono essere designate a un trattamento del dato singolo oppure ad una molteplicità di trattamento dei dati. Diritto dell'interessanti. In questo caso deve essere assicurato gli interessanti il diritto che tutto quello che viene trattato, anche in un modo particolare nell'ambito di sorveglianza, è conforme al codice della privacy. Questo è uno delle novità, diciamo, del codice della privacy. Quindi ha sempre diritto di accedere ai dati che l'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati che lo riguardano e in modo particolare verificare che le finalità siano quelle designate nel provvedimento, quelle indicate nel provvedimento, per esempio, di installazione della videosorveglianza e quindi può fare un controllo rispetto a quelli che sono i dati, i suoi dati che poi vengono utilizzati e identificati. E' chiaro che il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma comporta l'applicazione di sanzioni, come dicevo, molto salate. Il titolare della privacy, cioè quali sono le funzioni, deve adottare misure adeguate per fornire all'interessato le informazioni. L'interessato può chiedere durante il procedimento penale, ad esempio, che la sua, la rettifica, la cancellazione, la limitazione dei dati personali, anche in questo caso nel procedimento penale. Quindi, oltre a questo, sempre la direttiva dell'europea richiama le misure di sicurezza, quindi prevede le adeguate misure di sicurezza nel trattamento che siano poi chiaramente conformi alla materia. Bene, allora, tutto il discorso sulla videosorveglianza ha chiaramente più volte richiamato questo utilizzo della sicurezza urbana. Quindi, più volte abbiamo detto che la sicurezza urbana è alla base, è lo scopo ed è alla base della videosorveglianza, è un modo per attuare la sicurezza controllata e quindi la sicurezza urbana attraverso i dati. Ma questo, in modo particolare, lo troviamo nella definizione proprio di sicurezza integrata. Infatti, la norma del 2017 alla 48 prevede, all'articolo 5, che i sistemi di videosorveglianza, a fine di garantire una sicurezza integrata, quindi la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, debbano essere, i sistemi di videosorveglianza, debbano essere messi in comune, quindi l'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza e quindi la tecnologia. In questi anni, quindi, abbiamo assistito a importanti investimenti, questo è quello che dice la norma. La norma dice proprio che sia assistito a tutta una serie del proliferare di videosorveglianza, di vari sistemi, ognuno poi persegue determinati obiettivi, e però il prefetto è quello che deve imporre, deve imprimere il monitoraggio di questi sistemi. Quindi nel 2017 il legislatore si accorge che effettivamente c'è un marasma e ci sono sistemi di videosorveglianza che probabilmente non dialogano tra loro e che probabilmente per questo non dialogare tra loro non hanno poi l'efficacia e l'efficienza che dovrebbero avere. Quindi che cosa fa? Ritiene di fare una mappatura e quindi stabilisce che il prefetto debba occuparsi di fare un raccordo e quindi di mappare tutto quello che è il territorio attraverso il territorio nazionale e cercare di imprimere, assicurare in questo caso una conformità della norma, ma soprattutto una uniformità di intento. Per questo ritiene che si debbano mettere, interfacciare le sale operative delle varie forze di polizia in un collegamento diretto in modo tale da poter garantire l'efficacia, lo scopo esatto del controllo. Quindi continuo l'articolo 5 dicendo chiaramente che tutto questo deve essere soprattutto adibito, deve essere soprattutto reso possibile attraverso anche quello che è il sistema, il sistema interforse, ma soprattutto tenendo conto del codice della privacy. Quindi se vedete in questo caso il legislatore fa un discursus, si rende conto che nell'arco degli ultimi dieci anni c'è stato un proliferare di questo strumento e in questo caso c'è bisogno di raccordare. Quindi la direzione centrale della polizia e della posizione criminale costituisce il punto di riferimento e quindi conferisce alla direzione, al dipartimento di polizia, una sorta di raccordo con le varie polizie. Anche in questo caso poi vedrete la polizia locale. Successivamente il 31 gennaio 2018 viene rimanato un decreto ministeriale e qui sono praticamente indicate i criteri per poter poi aderire a quella che è la videosorveglianza partecipata o meglio quella che possiamo definire sicurezza integrata attraverso lo strumento della videosorveglianza ma che è con alla base un obbligo di raccordarsi. Quindi che cosa dice lo Stato? Dice io ti finanzio il sistema di videosorveglianza però tu ti preoccupi di raccordarti con le altre forze di polizia. Quindi chi può accedere? Possono produrre richiesta per accedere ai finanziamenti comuni che hanno sottoscritto i fatti. Il patto è proprio quello. Il patto individua come obiettivo la prevenzione e il contrasto dei fenomeni attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei comuni. Ora, come deve essere questo sistema? Chi vuole realizzare il sistema, secondo lo Stato, deve anche realizzare un sistema di manutenzione. Ma, cosa più importante, i sistemi vengono approvati dal Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza e devono essere conformi alle indicazioni impartite dal Ministero dell'Interno. Dopodiché, quello che è fondamentale è che nei patti per la sicurezza urbana è stabilito che tali telecambi devono essere interconnesse. Quindi, lo Stato finanzia, ma le centrali operative devono parlarsi. Questo chiaramente è uno degli scopi di questa sicurezza integrata, giustamente. Come vengono valutate le richieste per avere il finanziamento? L'indice di criminalità, la delittosità della provincia e quella del comune e poi i fenomeni più diffusi e il numero della popolazione residente. Dopodiché vengono predisposti, abbiamo detto, dei protocolli per l'attuazione e si precisa fin d'ora che in ragione della condivisione bisogna acquisire nulla osta ma soprattutto l'ammissibilità ai finanziamenti è preventivamente fatta solamente se c'è nulla osta e c'è quindi l'approvazione del sistema di videosorveglianza al comitato provinciale per l'ordine e sicurezza della pubblica. Quindi il contratto tipo è quello che le prefetture mandano a prima. Chiaramente i progetti vengono elaborati sulla disposizione del garante ma poi sono chiaramente precostituite dal prefetto. Viene istituita una cabina di regia, la cabina di regia è composta da rappresentanti delle forze di polizia e delle forze di polizia locali necessariamente perché abbiamo detto che abbiamo la centrale interconnessa e quindi tutto questo con la supervisione del Dipartimento della Funzione Pubblica che abbiamo detto è il punto nodale, è il punto di coordinamento di tutte le attività. Che cos'è il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza? Bene che ce lo ricordiamo, è stato istituito dall'articolo 20 della legge 121 del 1981 rappresenta lo strumento organizzativo di coordinamento e di decisione che può contemperare esigenze di gestione unitaria della politica di sicurezza ed è presieduto dal prefetto, vi partecipano i sindaci del territorio, questo è il comitato. Ora andiamo in particolare ai fatti della videosorveglianza. Nel 2018 il decreto legge che poi viene convertito in legge 132 sempre del 2018 aumenta la possibilità di finanziamenti per quanto riguarda i fatti per la videosorveglianza e stabilisce che, intanto il decreto così si intitola disposizione ucente in materia di protezione internazionale, migrazione e sicurezza pubblica che ad oggi è ancora legge. L'articolo 35 qui in quest stabilisce, praticamente definisce, incrementa i sistemi e quindi ancora di più incrementa il sistema di videosorveglianza quindi stabilisce che a fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui l'articolo 5 eccetera che abbiamo detto la norma precedente, l'abbiamo letta nel suo dettaglio stabilisce quindi, abbiamo detto, incrementata quindi la somma per poter effettuare richieste, quindi finanziamenti di videosorveglianza parte di fine è incrementata ancora di più e sarà incrementata quindi nei vari anni a seguire per il triennio. La norma, abbiamo detto, i patti per l'attuazione in coerenza questo dice proprio il patto per l'attuazione in coerenza con le linee generali e quindi in questo caso la conferenza città, stato, città e autonomi locali hanno la possibilità in questo caso di sottoscrivere protocolli che sono intensi proprio alla tutela del territorio e anche aree rurali, qua parliamo per esempio dell'esigenza delle periferie ancora stabilisce i patti per la sicurezza, quali sono gli obiettivi ma se vedete alla fine tra gli obiettivi prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e abbiamo già sentito dire in precedenza che lo scopo della sicurezza urbana ma anche della connessione con la sicurezza pubblica ma in tutto questo anche attraverso accordi di reti di volontari per la tutela della salvaguardia dell'arrivo urbano i cosiddetti controlli di vicinato e infine attraverso l'uso, l'utilizzo di controllo attraverso esigenze diciamo di controllo con l'installazione di sistemi di biosorveglianza quindi lo ripete e ritiene che sia importante bene, allora io ho finito ma vi farei fare una breve riflessione su quelli che sono chiaramente i momenti più salienti rispetto a quello che ci siamo detto la videosorveglianza può essere sicuramente uno strumento uno strumento fondamentale per poter controllare il territorio ma come ogni cosa si è chiaramente in una condizione di non eccedere quindi lo strumento, le grandi realtà urbane dove necessariamente c'è bisogno di avere un controllo capillare di tutte le attività della città in queste grandi aree abbiamo la possibilità di avere delle centrali operative organizzate in modo tale da poter garantire con un servizio presente in tutto l'arco della giornata abbiamo la possibilità di garantire il controllo dell'area di tutta l'area che è veramente una città in grande quando parliamo invece dei piccoli agglomerati urbani o comunque delle piccole città il sistema di biosorveglianza può in un certo senso essere efficace ma ha una efficacia limitata limitata dal fatto che nelle piccole comunità bene o male si conoscono tutti la biosorveglianza per gli scopi predatori abbiamo detto che gli scopi di crimini predatori sicuramente mette e pone nella condizione la cittadinanza seppur la piccola comunità una condizione di sicurezza chiaramente gli amministratori di queste piccole comunità auspicano che la biosorveglianza possa tra virgolette essere la panacea di tutti i mali ma succede poi in converso che questi sistemi ripeto nelle piccole realtà sono non utilizzati appieno per la carenza delle risorse sicuramente umane cioè le risorse che possono essere impiegate per la visione delle telecamere perché un sistema di telecamere che funziona bene è quello integrato è quello che pone nell'evidenza il ruolo delle polizie in generale quindi statali e locali nel trattare quindi chiaramente insieme un sistema che può essere strutturato e che può essere strumento efficace ora la biosorveglianza come è stabilito dalla norma e cioè l'implementazione la norma auspica che ci sia un controllo capillare di tutte le aree urbani periurbani periferiche nella misura in cui si hanno dei finanziamenti ebbene quando c'è la possibilità per i comuni di poter dotare comuni grandi che hanno delle effettive esigenze di poter dotare di sistema di biosorveglianza integrato nel quale le varie polizie possono interfacciarsi ma soprattutto possono rendere la come dire la sicurezza una sicurezza partecipata e integrata allora in questo caso il sistema mi sento di dire che il sistema di biosorveglianza come sistema anche intelligente è chiaramente utilissimo utilissimo c'è un interscambio di informazioni c'è la consapevolezza che il cittadino percepisce la sicurezza come innalzato il livello di controlli e quindi la percezione della sicurezza è sicuramente una percezione positiva diversamente nelle aree più piccole in comuni piccolini dove la biosorveglianza non può essere messa in una connessione con le altre forze dell'ordine e quindi non è possibile partecipare alla sicurezza integrata in questo caso posso dire che probabilmente viene vista come un deterrente ma un deterrente che ha un'efficacia molto limitata molto limitata nel tempo dopodiché possiamo anche pensare al fatto che in alcuni casi proprio perché non c'è quello che è questo sistema di interconnessioni in alcuni casi si può pensare proprio che il sacrificio della riservatezza dal punto di vista del come dire della riservatezza a favore quindi la riservatezza del dato personale a favore della biosorveglianza diciamo che non è compensato dall'efficacia del sistema di biosorveglianza ora nelle città dove è possibile avere un controllo bisogna necessariamente che il controllo poi segua una forma di tutela anche del del cittadino come il controllo dovrebbe seguire con una esemplare poi sanzione o comunque con attraverso sistema di correttezza e di identificazione di quelli che sono i maggiori compiti diciamo i maggiori comportamenti non conformi bene allora io perfetto allora io con questo ho finito spero di aver reso l'argomento di vostro gradimento piacevole insomma è un argomento sicuramente di interesse è un argomento che la biosorveglianza pone tanti dubbi pone tante domande ma che al momento di poter procedere a quello che sono i controlli è essenziale che sia come dire adottata abbiamo parlato anche di parti della sicurezza vi invito in questo caso a verificare adesso nella scheda vi manderò anche qualche richiede qualche ipotesi di fatto per la sicurezza integrata dove riuscirete sicuramente ad approfondire meglio il problema qui abbiamo necessariamente dovuto discutere un po' di quelle che sono i presupposti capisaldi della 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 materia con una compensazione tra quelli che sono diritti o il dovere di astensione rispetto alla riservatezza il diritto alla riservatezza rispetto chiaramente alla di soffegianza quindi diciamo argomenti che vanno sicuramente approfonditi ma che per il lavoro che dobbiamo fare dal punto di vista diciamo della sicurezza della della dell'attività di polizia municipale e gli argomenti saranno se si è impegnati o comunque impiegati nelle centrali operative si possono tranquillamente approfondire gli argomenti gli ambiti che riguardano non solo la videosorveglianza ma soprattutto tutto il discorso del codice della privacy perché attenzione che molto spesso succede alla la superficialità di intervento che noi abbiamo soprattutto nelle centrali operative ci pone poi ci espone anche a denunce importanti proprio di lesioni della privacy e anche ci espone anche a sanzioni espone lenti a sanzioni importanti che possono essere imposte da un garante della privacy bene allora io con questo vi saluto spero di aver dato risposto a quelle che sono le esigenze di conoscenza che avete avuto e sicuramente ci aggiorneremo per una ulteriore lezione successiva grazie per l'attenzione a presto arrivederci a presto